Ma sì, ma mi ha portato... Io sono il papà che l'ha fatta andare a scuola, all'università, che l'ha dato una istruzione, una formazione di tutto rispetto. E... E... Adesso, a 60 anni, lei mi ha comprato una casa, va bene? Benvenuto, King. Ah, 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 Zah King. Beh, la pasta al peso, l'ho mangiata oggi, grazie per il subscribe. Grazie di cuore, King. Benvenuto. Come stai? Come mai questa sub? Ti piace il canale? Ti piacciono i miei contenuti? Oggi volevo arrivare a Mastards. Di base non gioco molto meno sul Q. Mi piace di più giocare di squadra, fare coaching team in live. Però, boh, di uno mi sta proprio stretto, ti dico la verità. Cosa potremmo levare, wey? Ma sì, leviamo wey, per ridere. Boganone Atrox mana 100% con i retranked. Minchia, che ricordi. Fai la build di Le Hands. Che build ha fatto Le Hands? Ma poi, ragazzi, adesso dirò una cosa di un arrogante incredibile. Anche se hai vinto i mondiali, non vuol dire che sei più forte di me con Blitzkahn, ok? Tengo conto, ma se non mi convince non lo faccio. Chi è questa bella stellina? E sei tu. Dai è King. Veramenti? Non ho fatto neanche un grab a triangolo? Questo me lo dici tu, King. Potremmo giocare a Morgana, ma non mi piace per niente Morgana contro Lux. Verdi Blitzkahn di nuovo. Vai. Comunque, mi andrò sicuramente a vedere la partita. Ma forse già c'è, no? Su YouTube. Cazzi, gli editori di Caidle pubblicano 20 minuti dopo che è finita la partita. No, non l'hanno ancora pubblicato. Non ci siamo proprio, editori di Caidle. Non la puoi vedere in live, però deve aspettare 24 ore. Che pal. Oh, ma quanti sub ci sono la domenica? Occhio qua. Mattia, io no, per fortuna. Ne ho uno. Grazie per i 18. Bella Cosmo con i 6. Paolo, oggi sei proprio raggiante. Grazie, grazie. Mi mettete in profondo imbarazzo. Grazie a tutti. Grazie. Siete molto gentili, ragazzi. Grazie. Grazie. Alla Gottlieg ho fatto un bellissimo gol. E tutti i calciatori hanno iniziato a farmi complimenti. Ma seriamente? Mi stavo vergognando. Ah, Scream God! Paolo, come sono andate le Scream di ieri con Deidoo e gli altri? Mattia, le abbalanza bene. Io lavorerei dopo sugli errori che facciamo. Oh, ah, peccato. Mi sa che vince. Che tristezza. Ma io qui muoio? Sono due pozioni. Non bello con Zeto contro chi giochiamo. Non mi darebbe a soppare. Mi stoppa, ma non muoio. C'ho anche l'exusto. Vabbè, questo è il loro support. Potrei anche comprare due pozze. Ne comprerò solo una. Se ci avessi seguito all'inizio, Kennen avrebbe... avremmo stravinto quel trade. Incredibile il Glass Alignment quanto ha ridotto. Danno ridotto 104, eh. Fuori di testa. È veramente forte a livello 1, come sembra. Incredibile che nessuno abbia flasciato per me. Probabilmente mi potrebbero uscitere. Ma direi bene. Forse era meglio prendere un'altra pozza, sai. Allora. Io qui sono molto tranquillo. Molto tranquillo nel senso che... Devo fare una mazza. Beh, Luke sta cringiando. Bene. Probabilmente guardato qua. Non so dove il loro jungle, ma non credo sia un problema. Mi prende. Ho provato a allontare il mio academy, ma ero troppo vicino. Vabbè che non ha preso tanto danno. È proprio Forbo, Jean. My bad, dovevo tancaghi, no? A volte faccio queste cose. Dove uso l'exflash e poi non grabbo. Per sembrare stupido. Faccio finta, faccio finta. Dico, ah ma sì, stavo scherzando. In realtà non stavo scherzando. È come far finta di tirare un pugno. Poi provo a tirare. Ahia. Purtroppo abbiamo perso veramente tantissima vita nel loro POC. Oh, nice bait. C'è un buco? No. Ah, fia spazio. Possiamo pushare una... Ma allora, ucciderli e non li ammazziamo. Purtroppo. Se Lux prende quella trappa, forse ci vuole pure. Ficerebbe ucciderli, ma... C'è un buco? No. Ci vuole essere un mummo adesso, Bozze? Noi pushiamo e regoliamo. Ci hanno dato per la prima volta la possibilità di pushare tutti loro. Ok, ho appena tolto il flash. Biasbf. Logging me now. No, ho capito il perché nel fallback. Vai. Mi piacerebbe un cooldown action anche a questo giro? Mmm, le swiftness mi piacciono di più. No, ma flasherò anche questo game un sacco. Questo è un regolo che mi fa impazzire. Vai. Le ricaricabili contro la POC lane sono fortissime. Siamo mid lane, possiamo grabare action. Abbiamo tutte le summoner spell. C'è la possibilità che ci sia a mummo mid lane. Queste sono le valutazioni che dobbiamo fare. No, probabilmente al drake loro. Lo spottiamo. Se abbiamo una mummo, non c'è qualcosa di buono? Sono terrorizzati? No. Non si sa mai. Magari succede il miracolo. Il problema principale è che quelli riprendiamo. Spero che sì. No, rovina. Occhio. Non voglio giocare. Grand trade però ha fatto. Ma gli ha dato l'ultima... Eh, noi siamo... Infatti. Io non voglio. Forse gli ex ospi salvavano? Io direi bene. Noi non volevamo giocare. Abbiamo fatto uno per uno col gioco nemico. Top, abbiamo vinto. Oh, ho sbagliato che mi ha detto, ne cazzo. Chi sono i pauloni minore 3? Chi sono i king? Oh, tra l'altro. Vai. Pushiamo. Romeo, mid lane. Oi, oi, oi. Non è una tragedia, ma non siamo nemmeno contenti di quello che è successo. No, non è chi l'abbia. Rimarrei solo per il 6. Gli devono pushare. Forse ho sbagliato. Non lo so. No, no, ma non è chi l'abbia. Lui ha poco mana. Non c'è un item. Non c'è un item. Ma questo è Lux è Darkry. È lui, ragazzi. Sapevo che aveva cambiato il nickname in Zodiac. È lui? È un buco di quali dell'Apple Cannon. Lei non vuole giocare. Non capisco perché... I can flash Wook if you are close to me. Mumu is bot side. Allo, Liette. Grazie. Molto gentile. Ma che sta succedendo in questo periodo alla mia chat? Siete cambiati? Passate dal prendere per il cuo a farmi comprare in tutto il tempo? Mi dai una mano? Ci potrebbe essere Mumu, bozza. Pusciamo il cagletto perché è quello più difficile da pushare. Mboree. Ah, feels bad, man. Io veramente li voglio ammazzare. Ci potrebbe essere Mumu, ma se vi cerco così, no ho paura. Pianando le memorie. Qui sono dei vabbili lissimi, dai. Non muore. Non muore. Mamma mia. Non vorrei sempre saper contare così bene. Dovebbe ultare G, no? L'ho letto come un libro della media, veramente. Chi c'è qua? Action invisibile. C'ho l'exos ma fa una tragedia, siete qua dentro. Vai. Ora non ho più paura. Potrebbe essere qui, ma faccio flash, grab, eh. Maddo di Dio, ragazzi. Come hai fatto a missarlo? Ragazzi, io sono autistico. Dovebbe ultare quello. Mi prendo un colpo e spero di non barriere. Volevo tankarne uno così lui aveva più chance di salvarsi. Peccato. Dovevo predictare anche che lui flashava. Se proiettavo che lui flashava, ragazzi, finivano... Ecco, su action ci può stare queste scarpe, secondo me. Ci sta, su action. Non so se era giusto fare il locket. Scusate, che ho fatto veramente autismo puro? Vedere dove era... Cioè, intuire che poteva esserci action in quel punto. Ho semplicemente pensato che è quello che avrei fatto io al posto suo. Non ho pensato che lui avesse quegli flash. Poi non avevo l'informazione del flash. Ma avendo l'informazione del flash non ci puoi giocare attorno. Cos'è? Se non hai il flash... È il profilo del co***o. Oh. Mmm, dici che muoio? Non ho così paura per la mia vita. Ora ho più paura. E poi, ragazzi, vincevamo pure. Mmm, non è un bel lavoro. W di Jean lo uccide. Mamma mia, che tristezza. Mi sono un po' abbattuto, vi dico la verità. Forse perché non sto performando bene come ti vorrei. Vince Brand? No. Allora. Cambiamo un po' il paradigma. Cioè abbiamo una grande differenza fra la midline in questo oggettivo. Ma noi counteriamo... Mmm... Noi counteriamo action. Noi counteriamo tutti quanti, tranne i due tank. Che poi in realtà non sono nemmeno così fiddati. Quindi non fanno così paura. Sicuramente grabbano da Mumu non ci facciamo piacere. Ma adesso noi possiamo giocare tranquillamente per l'Araldo. Non so se possiamo tranquillamente giocare per l'Araldo come lo sto prendendo. Siamo... Chiaramente su una possibile weak side. E potete aver trollato. Perché Toplay non c'è. E loro potrebbero arrivare tranquillamente in tempo. Ah, quello... Ok. Adesso vado via. Che tiene è morta? Quello è un gran TP. Quello è veramente un single TP. E... Giochiamo per la torre. Andiamo su più via. Ma va benissimo. Questo sta trollando. Però non dovrebbero giocare. Noi dovremmo giocare per Skarner. Ma Bear non vuole. Però è anche l'area mid lane. Là è perso. Se Kenner non muore siamo contenti. Questa è una gran call. Ci sta? Ci sta? Andiamo in... In T2. Ma dici che muore prima? No, non muore prima. È male, è male. Comunque è male. C'era il coso. Mi faccio questo. Mi faccio anche... Non lo c'era mai. Non lo c'è nessuno. C'è uno Frozen? No. Knight's Fall? Abyssal? Abyssal non sembra male. C'abbiamo 2 AP. Siamo contro 2 AP. E mezzo. O di Abyssal. Anche se c'è Action che ci buca. Poi... Non è bene. Abbiamo fatto alcune cose brutte. Anche se abbiamo matto. Ma abbiamo matto facilmente. Poi... Aspetta, mi sono andato a te o non lo sento? Eh, ho perso il controllo questa partita, ragazzi. Sorry. Non senti che... Tremomento e cago. A me vedeva. Interessante. È morto Kenny di nuovo. Per averle salvato la vita. Hm. Interessante. No. Ragazzi. C'è un problema. Che gran binding mi hai tirato? Non muoio. Di pochissimo. Mi... Poi... Mi sono sinceramente molto abbattuto, ragazzi. Quando mi abbatto non provo più a vincere. Anche se Aikyu mi ha insegnato che non devo fare così. Aikyu mi ha insegnato che devi sempre provarci. Anche se sotto di 15 punti. E noi siamo sotto solo di 12. Allora. È ok. We need the picks on action. Poi. Un bel respiro. Vai. Giochiamo per Drake. Drake è andato. Guardiamo qua. Allora. Abbassiamo la musica. Mi sta venendo abbassando pure quella. E poi. Con molta... Con tutta la calma del mondo. Noi dobbiamo semplicemente uccidere. Allora sì. Ci abbiamo un team di merda. È chiaramente squilibrata come partita. E il loro action ha fatto... Faker. Ma... Non per questo. Dobbiamo mollare un cazzo. Ok. Quindi ora. Abbiamo fatto un pick. Abbiamo fatto due pick. Bene. 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 Ok, ora sono di nuovo in controllo della partita Ho detto che mi faccio l'Abyssal Mask E giriamo a preparare un vision Abbiamo il flash Questo non lo posso Aspetta, ma non è grave Fa benissimo Oh, il logo è sul tasso sbagliato Qui vince il game 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 Canon ulti up Volo gin Volo gin Qui vince il game Occhio action Ditemi la verità Volete sapere come faccio a saperlo Ditemi la verità Ditemi la verità Volete sapere come faccio a saperlo Ditemi la verità Ditemi la verità Volete sapere come faccio a saperlo Ditemi la verità Ditemi la verità Ditevi una verità Ditevi una verità Come fai Paolo? Allora Entro e rispondo a te perché la maggior parte delle persone Sta scrivendo no, non lo vogliono sapere E quando sei Sembri debole perché hai appena perso Un compagno di squadra Mai qualcuno che da solo può vincere Il fight è quando sei più pericoloso E l'avversario Messo alle corde Quindi Semplicemente loro là erano Addirittura stavamo pensato a un Baron Quando noi eravamo veramente Tanto forti Con flash ulti di Kennen E Kennen semplicemente ha fatto 1v3 Io non ho dovuto nemmeno grabbare E Grabberi action Va bene Era forzato grapparlo prima Perché lo sono Semplicemente C'è il drago Impossibile lasciarlo Qui ci dovrebbe essere a Mumu Sembra un male Ma lo è Due per uno Un buco alla pala Il ma di che cosa? flash mamma mia ragazzi che belli si game gina alla ult se lo grabbo prima di oh mamma mia che sburrata sto proprio sburrando bello bello ragazzi bello 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 armatura bello bello devo fare il knight adesso il padre game mi hanno ottenuto avete visto ragazzi da quando abbiamo detto abbiamo perso il controllo sono un po' nervoso ho mutato perché purtroppo non riuscivo a gestire quello stress anche nel frame dei compagni di squadra allora è tutto più facile abbiamo avuto una grande importanza in questo switch di mood gran pink soggiamo ok gran ward gran polizia ma che cazzo idea se muovi va pure gina ho fatto il bar un vaffanculo mi ha aiutato mi ha aiutato che bello che bello quanto è veloce loro non vedono che non è un errore della partita ah beh pensavo che si è scritto ace l'asso della palla a volo il centrale non so l'asso che lo giochi se è il laterale del centrale vabbè e giochiamo per questo e questo comunque aichio ragazzi guardatelo è livelli di block se non più bello e io amo entrambi bellissimo proprio stupendo oh gioco 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 occhio action dal lato action minchia ho anche coccato il team sulla t3 ma ci tengo a piaccettare che questo non è colpa mia ragazzi ci tengo a piaccettare che questo non è colpa mia perché io lo sapevo che sarebbe andato una merda we can't push t3 without warding side flank play for division avevo già da saperlo e hanno a mumu action lux scarner veniamo presi da un cc finisce tutto o ingaggio io e prendo un grab o non si gioca e giocano per t2 bot e top quello che è successo è imbarazzante colpa di alete è un classico bene il senso io non lo volevo fare però sicuramente potevo essere più serio nel disincentivare dal farlo ma qui muoio qui si può morire oh a mumu e là importantissima informazione l'ho silenziato così io non potevo l'ultare non so se l'ho fatto bene forse era meglio farlo l'ultare sai è che ci levava tantissima vita risultato qui ci dovrebbe essere lux t2 bot top da difendere questa è una gran giocata la mia ci vinco il game ci potrei vincere il game su sta roba qui dovrebbe scappare oh buono 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 vai 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 non deve morire ci va benissimo metà HP andati per se l'ho che buono è un ingaggio del cazzo devo grabbarli ma come non ci credo che ho messato no corchi sei un coglione devo tankare io non muoio gin 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 quando faccio queste cose ragazzi sono proprio orgoglioso di me quello è morto questo vince il game ultilux ci uccide dovrebbe sap Ah Ho trovato io Non è grave però Perché siamo in respawn time Prima del coso Questa c'è 24 stack di Mejai Lux has 24 Mejai Stack Sok air Air DPS Sono full build Con cooldown action comunque Puoi giocare molto di più League of Legends Fai molti più grab Divertente Molto divertente Bellissimo Ha il flash ogni 230 secondi È poco L'exhaust ogni 184 Ma hanno già cambiato l'exhaust Adesso mi sto sicuramente reactendo Quella che stanno facendo È profondamente sbagliato Oh mamma mia Sto sburando ragazzi Hanno preso una flippata enorme Non sono stati puniti Io sto giocando molto male Grazie a Dio abbiamo fatto La call è il Baron Non è la T2 Ma lui se lo può fare da solo No Mamma mia Stiamo a rispondere Che Non muore Non muore Non può muore Vabbè ricolliamo Non c'è molto Due pink Potrebbe essere Sai cosa Curioso Farci qui Il Mikael Il TP non ci piace per niente Perché ti rubi una torre È vero ma Non ce n'è bisogno Cioè La prendi dopo Se muore è una tragedia Questa roba è gravissima Ragazzi Flash di Cannon è prezioso Quanto sarebbe bello Se Axi amma chisse Sarebbe veramente bello Vero Non ti succederà mai Vero No Ti avevo meritato No 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 È grave Brandon è morto Abbiamo un grandissimo Objeto Tap Ma più che altro Forse devo grabbarlo subito Sul rampino Non è facile Ma è fattibile Ho avuto paura di farlo Quella muore Quella muore Vabbè viene proprio scoppiato Tu muori Vero Se non morite Ah è vinto È vinto il game Muore No Quello vuole andare a finire la partita Jin non può fare un cazzo Jin sta facendo il blue buff Ma non ci credo Quello non muore Facciamo il dragon Ma si è proprio patetico Guarda Ma uno vino non l'ammazziamo mai nella vita Vabbè Vabbè Andrà benissimo GG GG well played Oh le vinciamo eh boys Mi sto impegnando Mi sto divertendo Ho bevuto Onoriamo corchi Credo Lollo Uno che ho riportato prima L'hanno punito Non so nemmeno chi Chi c'è onorato? Kennen Però questa partita I primi livelli Non sono andati bene Buona domenica Ciao Luca Tutto bene Oggi farò una live un po' più lunga Perché sto stremando un po' di meno In questo periodo E mi mancava Stare con voi In realtà ho meno di mille sub Ho fatto dieci giorni questo mese